Andre, senti ma... una nuova idea per un video? No perchè non è che posso andare avanti ancora su scrivernauts e aspettare te che non fai mai niente. Eh. Ma... senti ma hai qualche soldo a parte? Su Steam? Su Steam magari potremmo anche spendere i nostri soldi bene e comprarci dei card per CS2, per Ponte Stratte. Dobbiamo avere anche le casse. Ma quelle ce le abbiamo. Le casse ce le ho. Io ho sempre le casse. Te le troppa a caso. E quindi un unboxing? Tiii! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Enea. Esatto. Che ha dovuto spendere i dindini. Ha dovuto spendere i dindini Enea per comprare le chiavi e le casse. No, diciamo che le casse le avevamo droppate. Abbiamo comprato le chiavi per aprire le casse. Le casse. Non abbiamo... No, ascolta. Non le avevamo messo. Adesso andiamo a un attimo in realtà perchè devo vedere una cosa. Allora, guardate la cassa. Andiamo a vedere. Questa. Sì. Una cassa. Vediamola. No no, ingrandisci la serie. Non so come funziona. Ah no, non puoi. Vabbè. Comunque se guardate la cassa è un lucchettino grande così. Io vi chiedo. Abbiamo M44, AVP, intradaglioni pesanti, Negev, Famasacali. Che cazzo mi sembra una chiave per aprire un lucchettino così. Che costa in quadruplo della cassa poi. Perché una chiave. Comunque noi abbiamo deciso di fare questo video perchè non avevamo niente da fare. Esatto. Facciamo una cacata. Facciamo una cacata. Facciamo una cacata. Allora adesso è una cosa difficile. Noi non abbiamo mai aperto. Tu non hai mai aperto cassa di cesso. Io mai. Io ho mai aperto cassa di cesso. Io ho mai aperto cassa di cesso. C'è una delle più rare. No. C'è una di quest'anno. Vabbè. Ok. Una delle più rinnovate. Cassa di armi dell'offensiva invernale. Normale. C'è normale. L'anno scorso. Cassa di armi del cacciatore. Il cacciatore è proprio piccola basilare diciamo. Si si è basica. Allora noi sappiamo già che non troveremo niente di bello. Io non trovo niente. Io scrivo un pittata alla valle dicendo che mi devono troppare un'arma. Rara cazzo. Ok. Ok. Allora io direi che possiamo iniziare a fare l'unboxing. Dopo l'unboxing vorremmo fare anche una competitiva sempre qui. Sì. Anche se iniziamo dei newb della madonna. Però non vogliamo provare. Vogliamo provare. Vogliamo provare. Vogliamo provare. Insomma. Io anche la foenix perché tanto c'è nel senso. Abbiamo due. Ok dai. Iniziamo con la foenix. Allora no. Diciamo che cosa vogliamo dalla foenix. Allora nella foenix. Abbiasmo. C'è qualcosa di così. Basilare. Ma io preferisco la ugica ma le onde francamente. Ma poi perché io la foenix non lo uso mai. Quindi. Quindi. Troveremo il 2 mp45 da foenix. Beh però c'è anche un oggetto speciale. Specialmente. Vada dai apri apri apri. Vandareci. Apri apri. Apri apri. Usa la chiave. Usa la chiave. No. C'era l'opzione usa la pistola. Dove? Quindi eh queste sono armi che possiamo trovare. Un oggetto speciale. Un oggetto eccezionalmente speciale. Usa la chiave. Siamo pronti. Vai. Sì. È quello. È quello. È proprio quello. È lui. È lui. È lui. È lui. È lui. Non l'ho mai usato il mech. Vale. Quindi è quello che ti conta l'uccisione. Mech 10 star track calore. Beh non è brutto eh. Non è brutto. Speriamo che vada qualcosa perché non lo vuole. Esatto. Perché lo rivenderemo? Oh ragazzi. Io direi. No. Prima di seconda Fomenix io farei prima quella dell'offensiva invernale. Ah ok. Quindi. No allora. Quindi la prima è andata malissimo direi. Eh no. Malino. Ce lo sappiamo. No. Io adesso vorrei l'M4 a 4. Ah. La WP di una rossa che ho lasciato. Beh guarda le famasca bello che è. Un sazio. Guarda anche l'M1. Vabbè. Usala che è. Non ho mai visto ancora. Voleva ammirare l'area. Che il Negev. No. Il Negev era l'unico brutto. Guarda è orrendo. Guarda lo manco. Il Negev. Ma che merda. È caduto sulla merda. Vabbè. La seconda è andata malissimo. Andiamo. Usiamo quella del cacciatore. È andata malissimo compadre. Vediamo qua che c'è. Quanto ti abbiamo? Coltello. Potremmo trovare anche un coltello eh. Io direi. Di qui due più rare. A campo quantosetto è. Quanto? Quanto? Io non ho ancora visto i radici. Vabbè. Che Gagliere. Che Gagliere. Dai dai. La vediamo. Uno raro. Guardalo. È lui. Dai 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 dai. No. No. Non ci credo. Era star track l'altro. Di 90 modo. Beh non è brutto. Non è neanche bello. Nel senso. Non ce ne facciamo niente. Operazione 4NX. E per ultimo aprirei quello. Vogliamo? L'M44. Non ho visto. È la prima volta che lo vedo. No è. No è. No. No. Beh però è stata track. Quindi vale già un po' di più. No. Ma tu la usi questa. Si chi va un. A te che non la usi. Ok. Il prossimo. L'ultima. Cosa c'è qua. L'M44. Quanto piance in prudine. Guarda la cappa fornata. Ah ma quattro 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 quattro. acqua un mandato un malissimo è andato di merda proprio fa niente, facciamo punta di niente guardiamoci un attimo andiamo a vedere un attimo adesso i prezzi no, no, no una cosa, perchè l'M249 ma non ha la schiena perchè è talmente brutta vabbè allora facciamo così adesso iniziamo con la competizione invece seria quella seria ok quindi guardiamo i prezzi e poi arriviamo con la competizione, andiamo a vedere i prezzi prima, ok ci rivediamo dopo ok ragazzi ci siamo mai più, io non aprò mai più una cassa in italiano seriamente non aprò mai più mai più, noi abbiamo speso 10 euro in chiavi per rispondere armi dal valore di giotare un euro e cinquanta vabbè comunque sono le pazzie che si fanno una volta non ci verrà mai più neanche un centesimo ok ragazzi siamo pronti competitive inizio vai inizio io con la P2 guardate quante belle c'era la P2 c'era la P2 vabbè dai su io da da e sono da solo ci sono i grandi i 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